Ok raga, in questi giorni non ho fatto veramente un cazzo, giornate abbastanza piene, settimana direi abbastanza piena, ho fatto giusto qualche video risposta su TikTok, ma perché lì è molto rapido, molto veloce, un minuto e via. Infatti non vi porto niente, neanche oggi, si parla un attimo di questo Trunks nuovo, poi in questi giorni me lo farmo e magari facciamo anche qualche match, però devo riuscire a liberarmi un po' perché mi riesce difficile giocare, registrare, editare, è veramente un periodo abbastanza pieno. Allora, parliamo un attimo di questo Trunks, intanto c'è che cazzo c'entra, nel senso io mi aspettavo sì che si andasse da un'altra parte dopo Universe Rep, però non verso Future. E questo è un Trunks che, ma anche se fosse un Trunks Hybrid, non mi sarei comunque aspettato neanche Hybrid, però lo vedo come un Trunks Future, anche perché c'è proprio quello lì insomma. Però Future, cioè al Festival comunque se l'erano già, insomma, diciamo, non dico inculato, però comunque, capito, hanno rilasciato l'unità quella tag, hanno messo Zamasu, che comunque è un ottimo personaggio tutt'oggi, quindi non mi aspettavo che si andasse di nuovo verso Future, non è detto, non si sa, non è confermato, però comunque questo Trunks mi lascia pensare che si stia andando in quella direzione. Però se si va verso Future, dove andiamo, cioè chi uscirà, come verranno trattati ora, nel senso a me viene da pensare che si andrà a fare come per Universe Rep, cioè ora siamo nel periodo Universe Rep, rilasciamo un paio di banner, LF, qualche SP e poi la Ultra, quindi anche Hit prenderebbe eventualmente il significato di la Ultra di questo specifico tag che stiamo andando a buffare in questo momento. Quindi, sì, sarebbe comunque più o meno la tabella di marcia di prima, cioè una Ultra ogni tre mesi, però non è più una Ultra ogni tre mesi, ma diventa una Ultra per ogni tag che andiamo a buffare, cioè, la devo intende in questo modo, quindi ipotizzando che ora si buffi Future, mi devo aspettare un prossimo banner LF con un personaggio Future, un eventuale altro banner Ultra con una Ultra Future e eventualmente poi un altro banner LF a conclusione, come è stato per Universe Rep. Secondo me ci potrebbe stare, ci potrebbe stare perché darebbe modo di condensare le risorse su determinati tag, quindi non vi interessa Future? Ok, non ci pullate, conservate le crono per tre mesi, quello che è, insomma, vabbè, è un po' palloso, viene a noia poi non pullare mai, però tendenzialmente uno può farlo, no, schippa per tre mesi, dice, mi conservo tutto per vedere cosa uscirà dopo e arrivo al tag successivo che magari ho 30.000, 40.000, 50.000, Pullo come un animale, se mi interessa, stello tutto a merda, quindi non è malaccio se venisse trattato in questo modo, chiaramente si fa per ipotizzare perché non lo sappiamo, però se ora buffassero Future, chi potrebbe uscire? Allora, personalmente penso in primo luogo a un ovvio Zamasu e Black, però a questo punto li vedrei come tag switch, cioè, secondo me sono una coppia di personaggi che ci sta come tag switch, è vero che il Future ha già diversi tag switch, perché ci sono sia Trunks e Vegeta, ma ci sono anche i gemelli, cioè gli androidi, potenzialmente si andrebbe a creare un team con triplo tag, che vabbè, ok, per ora sembra magari eccessivo, ma tanto ci si arriverà a quel punto perché, cioè, come è stato per le Ultra, no, che il Fusion ha avuto tre Ultra, ci potrebbe stare che il Future possa avere tre tag, cioè, prima o poi succederà, se non è per Future sarà per qualcun altro, ma insomma, prima o poi ci saranno sufficienti tag switch per fare... ci sono già, ci sono già, però diciamo che i team sono un po' pezzotti, insomma. Quindi, secondo me ci potrebbero stare uno Zamasu e Black oppure Zamasu e Rosé tag switch, in alternativa un altro Zamasu fuso potrebbe starci, alla fine Zamasu fuso, quello non corrotto, diciamo, non se ne vede uno da un pezzo, e anche quello corrotto, però, eh, tutto sommato ci potrebbe stare, perché anche quello ormai, sì, è vero che ha preso il platino, ma chi se lo incula. Eviterei, personalmente, un altro Zamasu, perché sappiamo quello del Festival, e forse, forse eviterei anche un altro Rosé, comunque, Rosé, quello LF Zenkai è buono, quindi, non lo so, mi andrei di più a concentrare su personaggi che effettivamente siano un po' diversi da quelli che, cioè, che ci sono già che si possono giocare, poi vabbè, magari non gliene frega un cazzo. E poi la Ultra, ammesso che esca la Ultra, cioè, io ci vedo Vegito, cioè, Vegito Blu, la Ultra del Future è lui, cioè, non è detto, però, chi più di lui si merita di essere la Ultra del Future? È vero che questo ragionamento non per forza deve valere, perché per Universe Rep, per me se la meritava Jiren, non Hit, cioè Hit, bellissimo personaggio, per l'amore del cielo, però se devo scegliere un big a cui dare la Ultra, se vado a pensare a chi se la merita più di tutti, se la merita Jiren, non Hit, però l'hanno data a Hit. Quindi potrebbero fare un ragionamento del genere, quindi non andiamo a mettere Vegito, magari per metterlo eventualmente all'anniversario, come è abbastanza ovvio che sia, no? All'anniversario di tutti ci aspettiamo la Ultra Fusion, e ora magari potrebbero mettere uno Zamasu, un Rosé, uno Zamasu corrotto, Zamasu, il primo Zamasu che ho detto intendevo fuso, non lo Zamasu classico. Quindi uno dei due Zamasu fusione Ultra potrebbe starci, è un personaggio comunque che se la merita, la Ultra, però non lo so, lo vedo un po' scarso, come... Cioè, mi lascerebbe un po' la mano in bocca che non fosse Vegito, boh, non lo so. Comunque, oltre a questi non mi viene in mente nessun altro, cioè, sì, l'ennesimo Goku, l'ennesimo Vegeta, Trunks uguale, cioè, Trunks c'è già, Trunks LF, Genki Sword, magari danno lo Zenkai a quello, di solito gli Zenkai dell'LF comunque sono validi, quindi eviterei di farne un altro, comunque il personaggio è bello sia come Kit, comunque io è una vita che non lo gioco, devo dire, però comunque me lo ricordo come un bel personaggio e comunque anche come animazioni non mi dispiaceva, quindi secondo me da quel punto di vista se serve un Trunks Genki Sword darei lo Zenkai a quello, Zenkai fatto bene, fine, non starei a far uscire un altro personaggio. Ci sarebbe da parlare anche di un eventuale Zenkai di Rosé, quello Evo, che secondo me quello spaccherebbe di brutto, però si ritorna appunto a capo, perché gli Zenkai sono una cosa, ma i personaggi da far uscire sono altri, cioè, io ci vedo come personaggio un po' hype perlomeno, un Tag Switch, Zamasu Black, Zamasu Rosé, insomma, uno dei due, eventualmente un'altra, un altro Zamasu Fusione, eee, raga, io ci vedo Vegito Ultra, però, cioè, se non mettono Vegito Ultra lo mettono all'anniversario, però all'anniversario si riva un'altra volta a ficcarci un'altra Ultra al Future, è vero che il Fusion ce n'ha, cioè, allora il Fusion andrebbe a 4, il Future andrebbe a 2, però ne avrebbe due ravvicinate, boh, non lo so, oppure, oppure potrebbero veramente, eee, schipparlo, e all'anniversario mettere, boh, Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, quindi rimangono in tema, eee, come si dice, ricorrenza, no, della classica Ultra all'anniversario Fusion, però non vanno a dare un altro buff a Future barra a Godki, insomma, per,ee, anche il discorso di Gogeta, boh, non lo so, diciamo che è un attimo spiazzato st'idea che ora si vada incontro a Future, poi magari non è vero, e magari domani esce un banner, cioè, domani, insomma, la prossima volta esce un banner, che ne so, Dragon Ball Saga, però ecco, sto Trunks mi fa pensare stavolta qui. Vabbè, niente, dai, ho parlato abbastanza, purtroppo non ho il dono della sintesi, quando comincio a chiacchierare non la finisco più, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo Trunks, intanto ditemi se è buono, che me lo devo ancora farmare, e non c'ho tempo sti giorni, e poi anche cosa pensate di questo discorso del Future, chi pensate che possa uscire, chi ci vedete bene come Ultra, insomma, va via, ditemi la vostra, e poi magari ci confrontiamo, insomma, dai, ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!